Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Buongiorno a tutti e devo dire queste due bellissime parole Felice Sabato Non potevo sempre dire quelle parole ma ora le dico con tanta passione ed eccitazione perché sì, è buono e finalmente l'ho capito finalmente l'ho capito per 56 anni io non vedevo la verità il diavolo mi aveva acceccato su questo messaggio meraviglioso questa verità ora questa verità va dappertutto io conosco la verità e lui è nei guai io lo dico a tutti, amèn io parlerò a tutti di questa meravigliosa verità che ora conosco Dio sia lodato quando sono nato i miei genitori erano credenti sono nato una domenica mattina e mercoledì sera loro mi portarono già in chiesa io non lo ricordo avevo solo quattro giorni io sono cresciuto in chiesa e non ci sono andato veramente pochissime volte così sono cresciuto con una famiglia che amava il Signore non osservavano il sabato eravamo battisti era tutto ciò che sapevo noi andavamo in chiesa ogni domenica mattina ogni domenica sera e mercoledì sera io sono cresciuto in chiesa mi hanno dedicato al Signore e sin da piccolo io sapevo che Dio controllava la mia vita quando avevo nove anni mi sono pentito ho ricevuto il messaggio sono stato battezzato e l'ho ricevuto come mio Signore a nove anni sapevo che Dio mi aveva chiamato ad essere pastore a quel tempo non conoscevo la parola pastore ma ripensandoci sapevo che sarei diventato pastore perché la mano di Dio era sul mio cuore quindi io sono cresciuto con questa meravigliosa cristianità io non conoscevo questa verità sul giorno di riposo del sabato a vent'anni ho risposto a quella chiamata sono andato al college poi all'università biblica poi ho superato il seminario e così via ho preso una laurea e ho guidato una chiesa per 35 anni ma era una chiesa che osservava la domenica per 35 anni per tutto quel tempo ho predicato ciò che sapevo essere la verità poi abbiamo capito che Dio voleva che facessimo una scuola cristiana 14 anni fa ne abbiamo aperta una ad Huntsville dato che Huntsville è influenzata grandemente dagli aventisti lì c'è Hawkwood con una popolazione aventista numerosa molte famiglie aventiste hanno scelto di mandare i figli nella nostra scuola Dio li ha posti lì per me perché io non conoscevo il messaggio così questi bambini frequentavano la mia scuola per tutti questi anni ho osservato queste famiglie e questi bambini e mi chiedevo perché sprecare un bel sabato andando in chiesa? io avevo quel tipo di atteggiamento inquisitorio pensavo perché il sabato non fanno football pesca eccetera perché non vi correggete venendo nella nostra chiesa di domenica questo era il mio atteggiamento ma alcuni studenti avevano la chiamata nel cuore e venivano nel mio ufficio per parlarmi qualche minuto la mia porta era sempre aperta qualche anno fa una ragazzina mi parlò del giorno di riposo del sabato io la ascoltavo educatamente ma non le aprivo il mio cuore dopo tutto io avevo la laurea e non avrei ascoltato una ragazzina delle medie che mi parlava delle dottrine io ero un pastore educato quindi abbiamo parlato e così via non abbiamo discusso l'ho ascoltata pensando sempre un giorno capirai ma continuavo a guardare le famiglie e ho scoperto che quelle famiglie aventiste che Dio ha portato nella nostra scuola mi amavano si prendevano cura di me mi guidavano dolcemente vivevano semplicemente la loro fede una volta di venerdì sera c'era una partita di basket la partita si svolgeva al venerdì sera e uno dei nostri migliori giocatori era aventista ma suo padre venne la partita era di venerdì pomeriggio e notai che 40 minuti prima del tramonto nel bel mezzo della partita suo padre arrivava e portava via suo figlio sì io l'ho notato pensavo lo fa perché stanno andando in chiesa ma voglio solo dire che queste famiglie erano coerenti amavano il loro Dio credevano al loro messaggio camminavano nella verità e lo facevano con amore poi un giorno proprio quell'uomo che aveva portato via suo figlio dalla partita venne da me dicendomi pastore tu ed io abbiamo un ottimo rapporto e i nostri figli frequentano la tua scuola da cinque o sei anni posso parlarti un attimo? certo entra pastore vorrei che leggessi un libro noi lo abbiamo letto io e la mia famiglia crediamo alle cose in questo libro ma potremmo anche sbagliarci potremmo essere stati ingannati su qualcosa lui mi stava preparando mi preparava pastore tu hai un dottorato in teologia eccetera potresti leggere questo libro? i dieci comandamenti rimossi due volte potresti leggerlo e dirmi cosa ne pensi? e se c'è qualcosa che non va nel libro amami abbastanza da dirmelo affinché possa correggermi lui stava toccando il mio ego certo fratello è un piacere leggerlo questa è la mia occasione per dire loro cosa pensavo quindi presi il libro e lo lessi la prima volta che ho letto quel libro mi ha letteralmente scioccato mi ha scioccato anche se avevo la laurea non l'avevo mai imparato prima così pensai che forse l'avevo letto troppo velocemente così decisi di rileggere quel libro tutto iniziai a digerirlo e pensai mi sono sbagliato per tutto questo tempo iniziai a scoprire Costantino e tutto il resto cosa accadde nella chiesa cattolica e come abbiamo seguito quella tradizione e pensai forse ho sbagliato ora lo rilego per la terza volta così lo lessi tre volte dopo la terza volta ero molto commosso e dovevo far leggere questo libro anche a mia moglie lei non sapeva che avessi letto quel libro non sapeva ciò che vi ho appena raccontato così le do il libro tesoro leggilo e dimmi cosa ne pensi dimmi solo cosa ne pensi così lei lesse il libro in una notte erano solo 128 pagine e ricordo il momento in cui finì l'ultima pagina perché volevo sentire cosa ne pensava lei chiude il libro mi guarda e io gli chiedo cosa ne pensa cito testualmente regi è chiaro perché non lo stiamo facendo tesoro non so perché non lo stiamo facendo fammi rileggere il libro sì io imparo lentamente quindi ho letto questo libro cinque volte l'ho letto più volte ma a quel punto erano cinque questo è il miglior libro mai letto questo libro dopo la bibbia è il miglior libro mai letto questo libro mi ha illuminato con la verità e dopo averlo letto cinque volte lei ed io ci siamo abbracciati dicendo caro dio ci dispiace per non aver mai conosciuto questa verità prima per 35 anni ho insegnato alla gente il messaggio sbagliato l'ho fatto sinceramente ma avevo torto puoi avere il messaggio sbagliato ed essere dolce ma è sempre sbagliato così noi decidemmo di cambiare il nostro stile di vita qualcuno ne ha parlato prima è stato un cambiamento totale dello stile di vita non cambiava solo la nostra giornata di riposo ma tutto il nostro stile di vita sì a quel punto ho deciso di rinunciare alle bracciole di maiale al pesce gatto ai gamberetti ho lasciato tutto per il Signore sì cambiamento dello stile di vita noi eravamo molto emozionati e felici per questa meravigliosa verità del sabato il giorno santo di Dio Dio ci ha detto di osservarlo e Dio che lo ha benedetto è santificato Dio ci ha detto di ricordarlo non di dimenticarlo e di santificare quel giorno di donarci a Lui in quel giorno Lui ci avrebbe visitato ponendoci addosso una coperta del suo amore facendone un segno per noi noi eravamo tanto felici ma avevamo una chiesa piena di gente che non lo sapeva così decidemmo di dirlo loro la domenica successiva arrivò il momento della resa dei conti loro non sapevano cosa stavo per dire e io non sapevo cosa stavano per dire loro e dissi loro ciò che ho appena detto a voi io non sapevo cosa avrebbero fatto ma era un qualcosa che Dio ha detto a me e a mia moglie e abbiamo deciso di cambiare il nostro stile di vita è il nostro messaggio onoreremo il Signore osserveremo il suo santo giorno di riposo del sabato predicheremo questo messaggio e cambieremo il nostro giorno di adorazione dalla domenica al sabato e se vuoi unirti a noi sei il benvenuto ma se non puoi ti amiamo comunque non sapevo cosa avrebbero detto ma sia lodato il Signore ogni persona di quella chiesa tutti gloria al suo nome sì grazie mio Dio lodate il suo nome ogni persona di quella chiesa mi disse pastore noi non capiamo tutto ciò che fai e perché lo fai ma vediamo la tua passione ti amiamo sei il nostro pastore confidiamo in te e seguiremo la tua guida così da allora in poi non ci siamo più incontrati di domenica ma di sabato e lo inauguriamo per noi è una celebrazione è una celebrazione oh sì inoltre voi vi incontrate qui il sabato mattina ma noi non possiamo aspettare così tanto non possiamo farlo dobbiamo farlo dall'inizio al tramonto di venerdì sera proprio quando arriva signore noi amiamo questo giorno signore noi amiamo il sabato è il tuo giorno sacro e celebra la sua grandezza nella nostra vita così la nostra chiesa cominciò a crescere io pensavo si sarebbe ridotta ma cresceva e cresceva dico solo un'altra cosa noi abbiamo iniziato come scuola cristiana 14 anni fa facevo il pastore molti anni prima e stavamo avviando una scuola e non volevo annettervi una chiesa volevo solo fare una scuola cristiana ma alcune famiglie della nostra scuola venivano da noi non era una chiesa loro volevano fare studi biblici e il pastore dentro di me acconsentiva così si formò un piccolo gruppo di studio biblico io non pensavo ad avere una chiesa c'era la scuola e tutto il resto e scherzosamente dicevo agli altri pastori della città probabilmente sono l'unico pastore in città che prega affinché la sua chiesa non cresca io scherzavo lo dicevo per scherzo ma ho scoperto che questo offendeva Dio un giorno lo Spirito Santo mi toccò sul petto dicendo Reggie non voglio che tu lo dica mai più perché non è la tua chiesa la chiesa è di Gesù io voglio che cresca così dissi signore lascia che questa chiesa cresca quando io mia moglie e la nostra chiesa abbiamo iniziato a onorare e adorare nel giorno del sabato seguendo il messaggio al nostro meglio probabilmente c'è ancora da fare ma vogliamo farlo bene e quando l'abbiamo fatto la chiesa ha iniziato a crescere non è così grande come la vostra ma lo sarà lo sarà lo sarà è questione di tempo arriva si riempie e arrivano da tutte le parti io vi voglio ringraziare la gente ha fame di verità voi avete la verità questa denominazione ha la verità e grazie a Dio per gli aventisti Dio ha usato la chiesa aventista per prendermi e aiutarmi a capire l'apocalisse voi vivete in modo coerente e anche se non vi conosco personalmente so come vi guarda la gente come vi guarda il mondo cristiano vi guardiamo dall'alto in basso io non più ma vi guardavo dall'alto in basso io dicevo che voi stavate sbagliando che siete pazzi eccetera ma Dio mi ha messo proprio in mezzo a voi gloria al suo nome Dio vi benedica grazie e benedetto il nome del Signore lui è un buon Dio felice sabato sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni